Ciao a tutti ragazzi, sono Mr. Technology Mania e benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi mostrerò 5 tastiere che secondo me sono tra le migliori presenti nel Play Store. Queste tastiere sono Go Keyboard, Swift Key, iKeyboard, Google Keyboard e TouchPal. Bene, iniziamo! Allora, partiamo da Go Keyboard, quindi apriamo l'applicazione. Appena aperta notiamo queste categorie, ovvero temi dove possiamo scegliere i temi per la nostra tastiera, plug-in dove possiamo scegliere delle funzioni aggiuntive come le emoticons oppure la digitazione vocale. In selezione alle lingue, come già dice il nome, possiamo invece scegliere la lingua della nostra tastiera. Mentre in digitazione possiamo scegliere se mostrare i suggerimenti, inserire le maiuscole automatiche, abilitare lo swipe, imparare le nostre parole e via dicendo. In altro possiamo anche abilitare i consigli della punteggiatura, personalizzare la colonna di sinistra della nostra tastiera e personalizzare anche la durata delle varie anteprime. In impostazione display, invece, possiamo scegliere l'altezza della nostra tastiera, abilitare le frecce, cambiare i layout, abilitare il tasto per il riconoscimento vocale e gestire i vari font. Mentre in suono e vibrazione possiamo gestire rispettivamente il suono e la vibrazione. In dizionario, invece, possiamo ripristinare il nostro dizionario o fare un backup e in FAQ e INFO ci sono le rispettive informazioni dell'applicazione. Ora, però, proviamo a scrivere un messaggio. Come posso vedere, la tastiera è davvero molto fluida, come anche la digitazione swipe. Inoltre, tenendo premuto sul tasto dei simboli, accediamo alle impostazioni. Cliccando invece su questa rotella, entriamo in queste semplici opzioni. Sulla maglietta entriamo nella gestione dei temi, sulle emoticons ovviamente entriamo nella gestione delle emoticons e cliccando su questa freccia chiudiamo la tastiera. Ora, però, passiamo a SwiftKey. In questa applicazione possiamo attivare il cloud di SwiftKey, entrare nella gestione dei temi, che sono veramente tanti, accedere al cloud per avere altri temi e poi fare un backup delle nostre impostazioni, selezionare la lingua della tastiera, modificarne il layout, gestire anche qui il suono e la vibrazione e selezionare i vari metodi di input, quindi vocale, swipe o anche tramite tastiera fisica. E in avanzate possiamo attivare le maiuscole automatiche, abilitare la previsione delle emoticons e attivare anche le notifiche. Infine, abbiamo le varie informazioni sull'applicazione. Anche qui andiamo a provarla, scrivendo ad esempio un SMS. Come posso vedere, la tastiera è molto reattiva e la scrittura swipe è davvero molto fluida. Forse è la più fluida di tutte le tastiere che ho provato. Questa tastiera, come posso vedere, ha anche la possibilità di essere divisa in due, di essere rimpicciolita oppure ingrandita e anche la possibilità di sganciarsi dalla parte inferiore del display e di essere posizionata un po' dove si vuole. Ovviamente anche qui ci sono le scorciatore rapide che servono ad esempio ad accedere velocemente alle emoticons e a fare altre funzioni. Ora però passiamo ad iKeyboards. Questa applicazione è, tra virgolette, famosa principalmente per la sua grande personalizzazione. Comunque, per te l'applicazione, entriamo nella gestione dei temi, dalla quale possiamo selezionarli o scaricarne altri. In carattere pictografico, come posso vedere, possiamo modificare il font della nostra tastiera, mentre in cartare apparati possiamo scegliere uno sfondo. E in suoni, come già dice il nome, possiamo selezionare i vari suoni, in questo caso li disattivo. In dizionario possiamo selezionare, appunto, il dizionario e la lingua della nostra tastiera. E infine, in impostazioni, possiamo abilitare il suono, la vibrazione, le maiuscole automatiche, le emoticons anche qui, mentre in impostazioni avanzate possiamo bloccare le parole offensive, abilitare la digitazione swipe e abilitare i vari suggerimenti. Ora anche qui proviamo a scrivere un SMS. Come si può notare, la tastiera è davvero molto reattiva, anche se la digitazione swipe non è il suo forte. Le scorciatoie rapide, anche qui non mancano, infatti possiamo accedere alle impostazioni della tastiera, possiamo modificarla, possiamo attivare le emoticons personalizzate e, cliccando su questi tasti, possiamo inviare la nostra posizione, modificare la tastiera, abilitare le frecce e gestire tutti i nostri temi. Inoltre, possiamo anche effettuare una dettatura vocale o fare una ricerca su internet. Adesso parliamo della tastiera di Google, ovvero della tastiera di Android Stock. Qui, come posso vedere, possiamo solo cambiare la lingua o attivare la maiuscola automatica. Possiamo inoltre attivare la vibrazione o il suono e gestire anche i nostri dizionari, i suggerimenti automatici e le correzioni. E inoltre, possiamo anche abilitare la tastiera swipe, che funziona davvero molto bene. In impostazioni avanzate, possiamo suggerire i nomi dei nostri contatti, cambiare i metodi di emissione e cambiare anche gli stili. Ora, però, proviamola. Come si può notare, questa tastiera è davvero molto fluida e molto reattiva. Forse è un po' più reattiva di SwiftKey. Ovviamente, anche qui ci sono le classiche scorciatoie per entrare nelle impostazioni e per entrare nella sezione delle emoticons. Comunque, in ultimo, vi mostro TouchPal. Anche questa tastiera presenta davvero molte impostazioni. Infatti, andando in impostazioni generali, possiamo attivare la vibrazione o il suono dei tasti, cambiare l'aspetto della tastiera e selezionare i vari plugin e i vari temi. In emissione intelligente, possiamo attivare la digitazione swipe, la correzione e la predizione automatica. Mentre, in TouchPal Cloud, possiamo effettuare il backup e la sincronizzazione delle nostre impostazioni riguardanti la tastiera. In menu tastiera di emissione, possiamo scegliere il dizionario e la lingua della nostra tastiera. Infine, abbiamo testa la velocità, TouchPal Premium e le varie informazioni riguardanti l'applicazione e riguardanti la tastiera. Ora, però, è arrivato il momento di usarla. Come posso vedere, la tastiera è abbastanza reattiva, anche se a volte perde qualche colpo. Ovviamente, anche qui non mancano le solite scorciatoie. Da qui, però, possiamo anche accedere alle impostazioni, alla lingua della tastiera, alla digitazione vocale e agli strumenti come copia e colla. E possiamo anche scrivere un tweet direttamente da qui. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. In descrizione, comunque, trovate il link per scaricare tutte queste tastiere Android che vi ho mostrato in questo video. Inoltre, trovate anche un link a parte per scaricare la pick-up della tastiera Google mostrata in questo video, qualora l'app del Play Store non fosse compatibile con il vostro dispositivo. Inoltre, se volete il secondo episodio di questo video, dove vi mostrerò le migliori tastiere per iOS, lasciate un bel pollice in su e condividete questo video su vari social network. Ovviamente, tutti i link li trovate in descrizione. Detto questo, ciao da Miss Technology Mania.